Professore, innanzitutto le chiedo, c'è stato un aumento dei casi rispetto al giorno precedente? Un aumento fisiologico o bisogna preoccuparsi? Allora, no, non è un aumento fisiologico. È un dato isolato, speriamo che non faccia tendenza, però io vado ribadendo da tanto tempo che questo virus circola, anche perché la variante Delta è una variante molto aggressiva dal punto di vista della trasmissibilità, quindi adesso non ci sono molti casi sintomatici, fortunatamente, e se vi sono spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, interessi ai soggetti che non hanno effettuato alcuna dose di vaccino, però probabilmente sta circolando in maniera silente. Purtroppo circola in maniera silente anche fra chi è vaccinato, malattia e dalla morte, ed è un grande successo. Quindi è un motivo importantissimo per vaccinarsi. Speriamo che non faccia tendenza. Sicuramente, io penso che quando comincerà a fare un po' più di freddo, con il fatto che si vive di più dentro casa o dentro gli ambienti chiusi, con il fatto che, abbiamo ribadito parecchie volte, che il freddo purtroppo aiuta il virus a superare la barriera immunologica rappresentata dalle mucose delle vie respiratorie, probabilmente circolerà ancora di più e probabilmente ci saranno più casi. Certamente i vaccinate di vaccini stanno aiutando e aiuteranno a farlo circolare meno e soprattutto a far sì che questa variante delta non dia problemi seri. Cosa ne pensa della terza dose del vaccino? Adesso ci sono le categorie fragili, poi gli oltreottantenni, poi gli operatori sanitari e poi immagino il resto della popolazione. Allora, ci sono dei lavori che sono stati pubblicati all'estero perché sapete che le vaccinazioni anti-covid-19 sono iniziate prima in altre nazioni, in altri stati, tipo ad esempio gli Stati Uniti, ma lo stesso Israele. Che cosa ci dicono questi lavori? Innanzitutto ci dicono che circa il 40% dei soggetti vaccinati a sette mesi perde quasi, non dico totalmente, ma in buona parte l'immunità da vaccino. Quindi è un motivo per eseguire la terza dose. Però ci dicono un'altra cosa, è un lavoro fatto dagli israeliani che ha dimostrato, loro hanno praticamente fatto la terza dose a tutta la loro popolazione e hanno dimostrato che il vaccino mRNA, loro hanno effettuato praticamente a tutti solamente il vaccino Pfizer, loro hanno il vaccino Pfizer. Il vaccino mRNA nella fattispecie Pfizer che, diciamo, dopo due dosi garantiva un 71-73% di protezione nei confronti della variante Delta. Con la terza dose questa protezione salta al 91-92%. Quindi voglio dire, facciamoci questo benedetto vaccino, facciamoci questa benedetta terza dose, soprattutto per chi, come il sottoscritto e professionalmente esposto, ma i fragili già fortunatamente hanno cominciato ad eseguire anche in Italia la terza dose, ma la terza dose va fatta. Ecco, le volevo chiedere, lei giustamente ha detto però che bisogna che si vaccinino tutti, anche gli altri abitanti del resto del globo, quindi non solo noi occidentali, anche perché ci sono patologie come ad esempio l'HIV e la DTS e qui bisogna fare i conti, ad esempio in Africa anche con questo. Che rapporto c'è con il Covid? Allora, praticamente cosa sta succedendo? Che queste varianti, ad esempio la nuova sudafricana, ma anche la sudafricana, si sono sviluppate in soggetti che avevano l'infezione di HIV o meglio ancora la patologia da essere determinata che è la nota AIDS. Nel mondo ci sono 65 milioni stimati di soggetti con infezioni e malattie HIV e AIDS. Di questi 65 milioni, ben 40 milioni sono nell'Africa nera, sub-sahariana e ben 7-8 milioni in Sudafrica. Allora sappiamo che ovviamente i paesi del terzo mondo non riescono a vaccinare i propri abitanti e quindi questi soggetti con l'AIDS hanno una prolungata permanenza del virus SARS-CoV-2 dentro il loro organismo e questa prolungata permanenza, parliamo di mesi, mesi e mesi, fa sì che ci possa essere o una mutazione, più di una mutazione nel corso di una sola infezione, come è successo per la nuova sudafricana per cui esce fuori dopo 5 mesi un nuovo virus che è variato. Oppure ci possono essere dei riassortimenti igienici, che cosa significa? Significa che se io albergo dentro di me SARS-CoV-2 per 6 mesi, ogni tanto vengo a contatto con un altro ceppo di SARS-CoV-2, riassortisco con il precedente, poi esce fuori un nuovo virus che riassortisce ancora con un altro per generare poi praticamente delle varianti ed è quello che è successo ad esempio la variante Delta e non in Sudafrica ma in India. Allora, quindi il motivo, diciamo questo è il motivo principale che ci impone una vaccinazione globale, quindi i paesi ricchi devono aiutare, i paesi poveri per aiutare fondamentalmente se stessi, perché sappiamo che il problema Covid-19 è un problema aggiuntivo per i paesi del terzo mondo, che poveri erano e poveri rimarranno. Tra l'altro ovviamente in quegli stati si muore di più di tubercolosi, di AIDS, di malaria eccetera. Solo che questa situazione destabilizzante per la presenza di questa pandemia paradossalmente interessa di più gli stati occidentali per ciò che ne può derivare dal punto di vista economico, quindi ovviamente crolli delle borse, recessioni eccetera eccetera. Quindi aiutiamo loro, aiutiamoci pure noi, perché solamente una vaccinazione globale garantirà i fragili del mondo, fra cui questi soggetti AIDS che evidentemente non possono essere vaccinati o comunque vaccinati ma con scarsa possibilità di risposta immunologica in quanto immunodepressi, per risolvere il prima possibile il problema rappresentato da Covid-19. L'AIDS, parliamo anche di AIDS, ne vogliamo parlare, perché ne dobbiamo parlare? Perché purtroppo è una patologia della quale ultimamente non se ne parla più, se non quando succedono quei fattacci tipo quella storia del prete, del clasiastico seropositivo AIDS che poi senza dirlo ovviamente a chi incontrava ha probabilmente infettato alcune persone. Allora, l'AIDS è sì diventata in Occidente una patologia cronica, dal 1997 con la cosiddetta terapia heart, questi soggetti in pratica sono riusciti a cronicizzare l'infezione. Ovviamente da questa infezione non si guarisce e comunque è un'infezione che determina la lungo l'immunodepressione e poi i farmaci antiretrovirali comunque sono farmaci che danno effetti collaterali. Ora, non se ne è parlato più, se ne deve continuare a parlare, soprattutto mi rivolgo ai giovani che devono stare attenti quando hanno rapporti sessuali occasionali e noi siamo sempre aperti per il test per l'AIDS che ultimamente però purtroppo viene fatto sempre meno. Perché è come se si fosse dimenticati di una patologia importantissima perché essendo diventata cronica sembra che sia in realtà risolta. Non è assolutamente risolta, è una bruttissima infezione e vaccini per l'AIDS ci stanno provando da tantissimo tempo ma non ne sono stati trovati e quindi l'unico sistema per l'AIDS è proprio la prevenzione e il controllo.